È in grado di comprendere la gravità delle sue azioni in termini giuridici e capaci di intendere di volere. A questa conclusione è giunta la perizia tecnica ordinata dalla Corte d'Assise di Padova su Youssef Molai Mahid, il cittadino marocchino accusato dell'omicidio della compagna Liliana Coita. La donna, 55 anni, era stata trovata senza vita un anno fa dopo che il 49enne si era presentato dai carabinieri di Tombolo dopo aver vagato in bici per più di un giorno confessando il delitto. Un raptus per motivi di gelosia ha raccontato più volte l'uomo per una nuova relazione della donna che il compagno aveva anche provato a rianimare dopo averla soffocata con un cuscino. Accusato di omicidio volontario aggravato dalla relazione sentimentale, il processo contro Youssef Molai Mahid tornerà in aula il 17 ottobre.